Tutta la gente della diocesi mi ha riservato fin dal mio ingresso un'accoglienza davvero calorosa. Lo ha ribadito più volte il Vescovo Andrea mercoledì 4 ottobre nell'incontro con la stampa in Episcopio. Una data non casuale è quella della festa del Patrono d'Italia San Francesco per vivere questo momento in perfetta letizia. Tanti sono stati i temi che i giornalisti hanno posto alla sua attenzione, dall'eredità lasciata dal Vescovo Armando alla crisi delle vocazioni, all'accorpamento delle parrocchie, alla conoscenza del territorio così vasto e variegato. Sono in diocesi da circa 90 giorni esordito il Vescovo e questi primi momenti li sto utilizzando per conoscere, ascoltare e ridurre le distanze geografiche e temporali. Mi presento a voi con spirito di riconoscenza, gratitudine e collaborazione. Sull'eredità raccolta dal suo predecessore, il Vescovo ha sottolineato la bellezza di poter riconoscere la bontà del lavoro altrui per vivere in continuità con chi lo ha preceduto. Ringrazio il Vescovo Armando e tutti i Vescovi precedenti. Mi sento all'interno di una squadra di collaboratori della Chiesa, forte e vivace, che lavora con impegno. Dobbiamo sentirci aggiunto, aperti a ciò che la Chiesa ci chiede e ricordarci sempre che i confini sono punti di incontro e non di chiusura. Sulla crisi delle vocazioni il Vescovo ha espresso preoccupazione per l'età anagrafica del suo presbiterio, ma anche gratitudine per il nuovo sacerdote Don Marco Rulli, che verrà ordinato sabato 14 ottobre nella concattedrale di Pergola alle ore 17. Voglio ringraziare il clero anziano ancora in salute perché è una presenza attiva che ci rassicura. Si è parlato poi di possibili accorpamenti tra parrocchie e addirittura fra diocesi. Non posso parlare ora di fusione e accorpamenti. Quello che mi sento di dire è che bisogna avere una visione ampia di Chiesa, dobbiamo avere ampie prospettive e pensarci di più a livello di comunità. In conclusione il Vescovo ha proposto un altro incontro con la stampa vicino al patrono dei giornalisti San Francesco di Sales a gennaio.